Lavorate alla lavanderia Glass House. Ci sono nate. Ho iniziato a mezza giornata dai sette anni. Sono a tempo pieno dai dodici. Che significherebbe il voto per voi? Voto alle donne. Il potere è nelle vostre mani. Non sottovalutate mai il potere che abbiamo di essere artefici del nostro destino. Non ci hanno lasciato alternative. Ribellatevi a questo governo. Voto alle donne! Dobbiamo arrivare dritte al cuore dei mezzi di comunicazione. Devo far rispettare la legge. Non possiamo rispettare una legge che non ci rispetta. Un tale livello di anarchia non si può più tollerare. Punite le responsabili con qualsiasi mezzo. No! No! Fermi! Mamma! Siamo in ogni casa. Diamo la vita. Non riuscirete a fermarci. Non arrenderti. Non smettere mai di lottare. Un tilt darulators. No! No! Grazie a tutti.